Dai, dai, non spingete, non spingete ragazzi, non spingete, ci sono donne, ci sono donne, non spingere che ci sono donne con l'indio, non spingere, non spingere, ci sono donne, ma non spingete, ma non spingete, ma non spingete. Non spingete, non dovete spingere ragazzi Dai 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 lo spinne dai 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 Oh, la gente cade giù, dai cavi Dai ragazzi, buoni, buoni Buoni, dai Noi non abbiamo niente in mano, sono degli infami, sono stati tutti bardati voi, non abbiamo niente nell'illecito, ha piantato il manganello, ha una ragazza lei, è il numero uno, è il numero uno, dai dai. Sì ma adesso lo riprenderanno sicuramente, lo sgrideranno adesso a sto numero uno, vedremo i titoloni sul giornale, vedremo i titoli sul giornale sicuramente, adesso va via, si toglie il casco, ora si toglie il casco ed è tranquillo. Noi sono tutti numeri, hai capito, ha messo numerati e ha messo, tutti uguali. Eh il più furbo quello. Noi non abbiamo niente in mano. Quello non lo fanno, gli altri non lo fanno. Hai capito, poi anche che si girano, è anche la faccia da guardare. Vigliacco! Ah adesso si girano. Tanto lo coprono, sono sempre coperti loro. Sì, è facile. Sette feriti avevano loro. Vedete mila euro al mese. Tutti bardati così. Eh sì, si inciampano bene. Allora.